Dunque la storia di Roma, come sapete, è la straordinaria trasformazione che vide quel piccolo villaggio di pastori sul colle Palatino trasformarsi in una capitale monumentale, la capitale di un immenso impero, l'impero romano. E qui inizia tutta la grande storia di Roma attraverso gli imperatori che vedremo perché il primo sarà Cesare Ottaviano nel 27 a.C., nominato Augusto, poi l'impero arriva alla massima espansione con Traiano nel 106 d.C. e poi la capitale sarà spostata da Milano a Costantinopoli e quindi Roma perderà il suo ruolo centrale fino alla caduta a 476 d.C. Adesso parliamo dei Romani. I Romani, un popolo di guerriere e conquistatori, non furono subito interessati all'arte perché, come sappiamo, i Romani avevano un obiettivo, quello di crescere come potenza politica, come potenza militare e quindi l'arte romana quando inizia? Inizio soltanto alla fine dell'età repubblicana, quando Roma si avvia a divenire la grande potenza del Mediterraneo, conquista la Magna Grecia, conquista la Grecia nel 146 a.C. A questo punto arrivano a Roma tutte le sculture greche come bottino di guerra, come trofeo di guerra e inizia così il collezionismo. Cioè inizia l'interesse dei patrizi romani che appunto vogliono abbellire le loro ville e quindi vanno alla ricerca delle copie romane delle sculture greche. Che come sapete le copie romane delle sculture greche furono proprio eseguite in età repubblicana, come il discopolo e l'oconte che noi conosciamo grazie ai Romani. Quindi in realtà i Romani mano a mano che conquistavano i territori, saccheggiavano i tempi e quindi si apriva questa fase del collezionismo, diciamo che è la cosa più importante della storia romana, che poi darà vita appunto alle opere, alla produzione artistica. Per quanto riguarda però l'arte romana avrà dei caratteri ben distinti, perché sì, sarà influenzata dall'arte etrusca e da quella greca, però avrà delle caratteristiche distinte, pensiamo per esempio alla ritrattistica. I Romani avevano uno scopo preciso, quello di tramandare ai posteri le fattezze degli antenati, avevano il culto degli antenati. Quindi in realtà, adesso andremo a vedere gli elementi costruttivi, l'arte romana come sapete dovrà celebrare le imprese appunto degli militari, con opere sempre più grandiose e monumentali, attraverso però dei sistemi costruttivi che sono appunto fondamentali, che furono poi il sistema costruttivo ereditato dagli etruschi, quello appunto dell'arco a tutto sesto. Ecco, se volessimo fare un raffronto tra l'arte greca e quella romana, noi sappiamo che i greci utilizzarono il sistema trilitico, quindi un sistema costituito in realtà da due elementi verticali, detti piedritti, e poi dall'architrave. Ovviamente questo sistema non poteva sopportare dei carichi eccessivi, perché il rischio era quello ovviamente prima della flessione della trave e poi della rottura. E allora i Romani adottarono il sistema archivoltato, cioè dell'arco e della volta. Un sistema che appunto era in grado di sopportare il peso della struttura sovrastante e poi di andare a coprire degli ampi spazi. Quindi di che cosa si tratta? In realtà andiamo a vedere anche nello schema. Una cosa sul comportamento statico però dell'arco a tutto sesto. Il rischio però di questa struttura è che l'arco una volta sottoposto a dei carichi, quindi sottoposto ad una pressione che viene dall'alto, questa forza tenderebbe a spingere i sostegni verso l'esterno. Per ovviare a questo problema, i Romani costruiranno delle grandi murature, dei grandi muri di sostegno. E quindi andranno ad ampliare in realtà la sezione del pilastro. Questo diciamo è un aspetto fondamentale. Adesso andiamo a vedere gli elementi che costituiscono l'arco. Quindi l'arco, come sapete, è costruito dai conci. I conci cosa sono? Sono delle pietre sagomate, delle pietre trapezioidali. Il concio in chiave è quello che viene posto sulla sommità ed è l'ultimo ad essere posto in opera che viene messo appunto a chiusura della struttura. E poi i vari termini, l'imposta è la linea dove appunto poggia l'arco e poi appunto l'intradosso è la parte sottostante interna dell'arco e l'estradosso è appunto la superficie esterna dell'arco. Questa struttura come veniva costruita? Bisognava prima di tutto andare a costruire un'armatura, una struttura di sostegno, la centina, sulla quale appunto venivano posti in opera i conci. Poi ovviamente veniva utilizzato del calcestruzzo e diciamo una sorta di pasta ottenuta con la calce, la sabbia e la ghiaia e poi una volta diciamo una volta appunto asciugato tutto appunto questo materiale veniva tolta la struttura e quindi si procedeva al disarmo. Adesso vediamo quali sono i sistemi di copertura che conosciamo. Allora, dunque, noi conosciamo la volta a botte che era adatta a coprire gli spazi rettangolari semplicemente e quindi volta a crociera che nello schema centrale lo vedete che è il risultato dell'intersezione di due volte a botte. Questa struttura la ritroveremo soprattutto all'interno delle chiese romaniche. E poi la cupola, la cupola che veniva impostata ovviamente su uno spazio circolare ma anche poligonale, quindi assimilabile al cerchio. Per quanto riguarda il calcestruzzo, una sorta di impasto ottenuta mescolando la calce più la sabbia più la ghiaia e il pietrisco e ovviamente poi vari opus, cioè in realtà la tecnica di che cosa consisteva? Veniva gettato questo composto diciamo all'interno di uno spazio delimitato da due pareti sottili. Quindi si riempiva con questa sorta di malta abbiamo detto. E poi si aspettava ovviamente la presa e quindi in realtà si otteneva l'opus cementitium, l'opus cementitium cioè l'opera cementizia che poi è stata quella che ha rivoluzionato l'architettura a partire dal mondo antico. Cioè in realtà si riempiva questo vuoto abbiamo detto tra le due pareti distanti l'una dall'altra con questo impasto appunto di calce e quindi di calce mista sabbia più pietra e ghiaia e poi si solidificava e quindi in realtà andava a costituire un unico blocco murario. Ovviamente per secondo del materiale impiegato si hanno diversi tipi di opus, quindi opus cementitium, poi opus reticulatum eccetera. Ecco per oggi è tutto, cercheremo ancora di approfondire, grazie.